accidenti e quella bestiaccia urlai per la disperazione poi gridai al mozzo che sotto vento a poppa batteva il tempo di portarmi un grosso filo ritorto e un grosso chiodo ero il primo ufficiale dello skylark una nave ben attrezzata e ci trovavamo a largo di capo horn in una notte senza vento e fredda era il quarto di mattina presto dalle dodici alle quattro e la quarta campana le due di notte era appena suonata durante tutto il quarto c'era stato un enorme albatro che volava su e giù per la nave qualche volta volava addirittura attraverso i ponti una cosa che per quanto ne sapessi non era caduta mai prima di allora quando il ragazzo mi portò lo spago e il chiodo legai intorno a questo due brazza circa di spago e così feci una specie di manezzevole piccola fiocina allora salì in fretta su per l'attrezzatura di mezzana e mi fermai nella parte incrociata dove mi mise ad aspettare con il chiodo pronto in una mano e la fine dello spago tenuta strettamente nell'altra dopo un po nella notte silente davanti a me udii il lugubre grido del grande uccello seguito da un fiume di imprecazioni da parte dell'uomo di guardia che senza dubbio era seccato come me dal continuo volare tutto intorno dell'uccello poi a una decina di minuti non si sentì alcun suono all'improvviso mi accorsi di qualcosa che volteggiava fra me e la pallida luce del cielo per poi venire a bordo per un momento non lo vidi più ma subito dopo mi giunse dalla mia sinistra il suo triste alto grido che usciva dalle tenebre della notte e poi vidi vagamente sotto di me qualcosa che passava attraverso le sartie alzai il chiodo e lo lanciai contro l'uccello usando tutta la mia forza poi lasciai scorrere tutta la lunghezza dello spago segui un cruciard di penne e un tirare dello spago quindi l'uccello gridò due volte dopo uno strattone del rumore di qualcosa che si spezzava il grande albatro se ne andò via libero tirai su lo spago finché non ebbi fra le mani il chiodo mentre lo passavo tra le dita sentì che era rimasto qualcosa impigliato intorno alla capocchia qualcosa che sembrava un pezzo di stoffa lo liberai dal chiodo e tornai giù a poppa vicino alla luce dell'abitacolo per vedere che cosa era quello che si era attorcigliato intorno al ferro non riuscii a veder bene di cosa si trattava così tirai fuori la lampada dal suo sostegno per avvicinarla e avere una luce migliore vedi allora che si trattava di una striscia di seta rossa che poteva essere stata strappata dalla blusa di una ragazza su un lato c'era un pezzo di nastro rotto per alcuni minuti esaminai quella stoffa con grande attenzione e così facendo trovai un lungo capello impigliato nel nodo del nastro delicatamente lo liberai e lo guardai poi me lo avvolsi intorno all'indice della mano era il capello castano con riflessi dorati di qualche ragazza che cosa significa noi eravamo al largo di capo horn uno dei luoghi più sinistri e solitari dell'oceano dopo aver riposto la lampada nel sostegno ritornai alla mia solita passezzata nella parte esposta al vento della poppa ma per tutto il tempo non cessai di pensare a quella faccenda e poco dopo tornai vicino alla luce per dare un'altra occhiata al pezzo di seta rossa mi accorse allora che non era passato molto tempo da quando era stato strappato essendo poco sfilacciato nel punto dello strappo e non sembrava essere stato logorato dalle intemperie altro che per pochi giorni anche la stoffa sembrava nuova e di qualità fine mi sentivo sempre più perplesso certamente c'era la possibilità della presenza di un altro veliero da poche centinaia di miglia da noi poteva poteva darsi che quella nave avesse a bordo una ragazza forse la figlia del capitano era possibile anche che avessero catturato questo albatro su una delle funi gli avessero legato addosso il pezzo di seta e lo avessero lasciato libero ma era molto improbabile perché i marinai non lasciano mai andar via un albatro a causa delle ossa delle ali con cui fanno i cannelli delle pipe e le membrane delle zampe con cui fanno delle borse nonché il petto che diventa uno stupendo paravento da caminetto altri apprezzano anche il grande becco e la bella punta delle ali e poi se l'uccello era stato rimesso in libertà perché qualcuno aveva strappato un pezzo di vestito di seta nuovo quando un qualunque altro pezzo di vecchia stoffa avrebbe sortito lo stesso scopo voi potete intuire come i miei pensieri si dirigessero a quel pezzo di seta e a quel lungo e grazioso capello che mi erano venuti a finire nelle mani in quella notte solitaria e desolata arrecandomi una strana sensazione non mi fu possibile trasformare in parole quel fatto meraviglioso eri presi a camminare con più foga da prua a poppa finalmente il secondo ufficiale venne a darmi il cambio quando suonò l'ottava campana il giorno dopo durante la guardia di mattina dalle otto alle dodici rimasi a guardare attentamente attorno cercando l'albatro ma tutto il mare era solitario ed era così calmo che non si riusciva a vedere nulla eccetto una massa di acqua dal desolante color grigio durante la guardia del pomeriggio andai giù a dormire più tardi durante il primo quarto poco prima della terza campana vidi il grande uccello volare e scivolare contro il cielo grigio a circa un miglio dalla prua afferrai il cannocchiale e lo guardai bene era un uccello grande e grosso dalle spalle larghe che aveva uno strano riconfiamento sotto il petto mentre lo osservavo all'improvviso mi sentii tutto eccitato perché vidi che il rigonfiamento era in realtà un pacco legato all'uccello da cui usciva qualcosa che svolazzava durante il secondo quarto chiesi ai miei due mozzi di scendere giù con me per aiutarmi a trovare una rete da pesca che tenevamo per fare qualche volta dello sport chissi loro che quella notte avrei tentato di prendere il grande albatro se avesse cercato di volare di nuovo attraverso i ponti i ragazzi avevano lo stesso mio entusiasmo sebbene avessi loro chiesto di cettare la rete durante il loro quarto giù da basso la notte era molto silenziosa e oscura e sebbene fosse molto difficile vedere qualcosa sarebbe stato facile udire l'albatro anche da lontano per un'ora circa non ci fu nessun segno e io cominciai a pensare che l'uccello non sarebbe più venuto a un tratto dopo la quarta campana a una grande distanza sul mare si fece sentire lo strano grido dell'albatro e pochi minuti dopo lo potei scorgere che volava silenziosamente tutto intorno alla nave nel modo abituale di questi uccelli emise ancora un grido e venne sopra la nave volando attraverso la poppa un minuto dopo emise un altro forte grido e cominciò a battere le ali gridai ai ragazzi vicino alle funi di abbassarle e un momento dopo potevo illuminare con la luce dell'abitacolo un confuso battere di ali e una rete tutta ingarbugliata ordinai al mozzo più vicino di tenere la lampada mentre io liberavo l'albatro e vidi il pacchetto che era legato sotto l'uccello il pacco era formato da molti strati di tela impermeabile e nella parte esterna c'era un pezzo di seta rossa come quella che era rimasta attaccata alla mia fiocina la notte precedente quando arrivai all'ultimo strato di tela vidi un paio di pagine strappate da un libro di bordo piegate molto stretta e in maniera compatta li aprì e mi accorsi che erano state scritte da una frettolosa mano femminile lessi quello che segue queste parole sono state scritte a bordo dell'unicorna una nave abbandonata il 21 marzo 1904 il vascello fu speronato da una nave a vapore sconosciuta dieci giorni fa io sono qui sola e vivo nella sala nautica ho abbastanza viveri acqua bastanti ancora per circa una settimana se sto molto attenta la nave sembra che galleggi con i ponti appena fuori dell'acqua e quando il mare è un po' mosso la inonda tutta mando questo messaggio legato al collo di un albatro il capitano gli sparò il giorno prima che fossimo speronati e ferì l'ala della povera creatura e disse allora che era un uomo brutale e inumano adesso mi dispiace perché sia lui che tutte le altre persone sono morte annegate era un uomo coraggioso perché mentre gli uomini si pigiavano nelle scialuppe per salvarsi col revolver in mano tentò di fermarli dicendo che nessuno doveva abbandonare la nave senza che io fossi al sicuro sparò anche contro due marinai ma gli altri lo gettarono in mare erano come pazzi presero tutte le barche e anche la mia cameriera andò con loro ma il mare era tempestoso e io vidicolare tutti a picco poco lontano dalla nave da allora sono rimasta sola eccetto per l'albatro che ho curato e che ora sembra possa volare prego dio che qualcuno trovi questo messaggio prima che sia troppo tardi se qualcuno lo trova venga a salvare una ragazza da una morte orribile e solitaria la posizione della nave è scritta nel libro di bordo e ve la trascrivo così vi sarà possibile sapere dove cercarmi è a 62 gradi 7 primi sud di latitudine e a 67 gradi 10 primi ovest di longitudine ho mandato altri messaggi in bottiglie tappate di sughero ma questo pacco è l'unico che contiene tutte le mie speranze legherò un pezzo di stoffa rossa al di fuori così chi vedrà l'albatro capirà che porta qualcosa e tenterà di prenderlo venite al più presto ci sono moltissimi ratti tutto attorno penso che a causa dell'acqua abbiano lasciato i loro rifugi certo mi fanno molta paura e dormo male ricordatevi che i viveri non mi basteranno più di una settimana e che sono qui tutta sola ma sarò coraggiosa vi prego di non rinunciare a cercarmi il vento ha soffiato dal nord da quando la nave è stata speronata ma adesso è calato probabilmente questi particolari vi aiuteranno a trovarmi poiché posso vedere che il vento farà andare la nave alla deriva non dimenticatemi ricordate che io aspetto aspetto e aspetto cercando di essere coraggiosa Mary Mary Doresward potete immaginare come mi sentì quando ebbe finito di leggere quella carta la nostra posizione quel giorno era a 58 sud di 67 e 30 ovest perciò eravamo almeno a 250 miglia a nord del luogo dove la nave abbandonata era stata 18 giorni prima poiché quel giorno era il 29 marzo come si poteva pensare che laggiù a sud c'era una ragazza che moriva di fame e di paura almeno ci fosse stato qualche segno di vento dopo un po' disse ai ragazzi di metter via la rete e portare giù l'albatro sul ponte principale per legarlo all'anello del catenaccio poi mi mise a camminare avanti e indietro per la poppa e finalmente mi decise andar giù a chiamare il vecchio per farlo partecipe di questa faccenda quando gli raccontai il fatto si vestì in fretta e venne nel salone dove lesse due volte la lettera molto attentamente guardò poi il barometro e salì a poppa ad esaminare il tempo non c'era però nessun segno di vento per tutto il tempo che restava della guardia si mise a camminare su e giù con me discutendo la faccenda e andò nell'abitacolo parecchie volte per rileggere la lettera una volta gli suggerì di farmi equipaggiare una delle scialuppe per andare a sud mentre la nave ci avrebbe seguito non appena si fosse rialzato il vento lui non ne volle sentir parlare e aveva ragione per prima cosa avrebbe messo a rischio la vita di quei marinai che avessero accettato di venire nella barca con me e poi avrebbe fatto correre dei rischi anche allo stesso battello perché avremmo dovuto lasciarlo con un equipaggio insufficiente perciò l'unica cosa da fare era pregare che si alzasse un po di vento giù dal ponte principale veniva un mormorio di voci e così venne a sapere che la notizia si era sparsa e gli uomini la commentavano questo solo potevano fare a mezzanotte quando venne a darmi il cambio il secondo ufficiale aveva già saputo la storia dalla bocca del mozzo che era andato a chiamarlo e quando finalmente scesi sotto coperta lui e il capitano lo stavano discutendo alle quattro quando mi svegliai la prima cosa che feci fu quella di informarmi sul vento ma non ce n'era il benché minimo segno e quando mi recai a poppa potei vedere che il tempo era sempre lo stesso la stessa apparenza di mobilità e di morte per tutto il giorno aspettammo un alito di vento che non arrivò mai una delegazione di marinai venne a chieder di poter andare come volontari in una delle scialuppe formando così una squadra di ricerca il capitano però le rimandò via con maniere calme e gentili e si sforzò di far capire loro l'inutilità di un tale tentativo e il terribile rischio perché se la nave naufragata era ancora sopra le acque del mare poteva essere andata alla deriva abbastanza lontano da considerarla perduta anche dopo settimane di ricerche in quegli sconosciuti mari del sud per tutto il giorno il vento non arrivò e per tutto il giorno non si parlò d'altro sulla nave che della possibilità di salvare la ragazza quando scese la notte non credo che gli uomini di guardia si presentassero camminavano sui giù per i ponti fischiando per chiamare il vento e osservando il tempo ritornò il mattino e sul mare c'era ancora calma a questo punto chiese al capitano il permesso di prendere la piccola lancia che era una barca leggera e facile a maneggiarsi così da poter andare da solo alla ricerca della nave naufragata gli dissi anche che se avessi fallito e la barca fosse andata perduta il suo valore sarebbe stato coperto dagli stipendi che mi erano dovuti ma il vecchio rifiutò semplicemente di ascoltarmi e mi disse abbastanza gentilmente che ero pazzo non era il caso di mettersi a discutere con lui perché aveva perfettamente ragione e le sue parole erano giuste allo stesso tempo però avevo deciso di tentare il salvataggio anche se il vento non fosse arrivato quella sera non riuscivo a togliermi dalla mente il pensiero di quella ragazza perché continuavo a immaginare quello che aveva detto dei topi quella notte quando il capitano se ne andò a dormire mi misi d'accordo con il cameriere di bordo e dopo ordinai di calare in acqua la piccola lancia senza far rumore ci misi dentro abbastanza viveri e aggiunsi anche una bottiglia di brandy e una di rum il secondo ufficiale mi diede una bussola e presi da una delle scialuppe un abitacolo riempi personalmente i barilotti di acqua e controllai che tutte le attrezzature della barca fossero in ordine poi aggiunsi delle tele impermeabili, alcune coperte e degli spessi tendaggi il mio sestante, il cronometro, le carte marine e altre cose che potevano servire per ultimo mi ricordai del fucile e corsi giù a prenderlo insieme a una bella quantità di cartucce perché potevano essermi di grande utilità quando tornai su e tutto fu pronto strinsi la mano al secondo ufficiale e mi calai nella lancia vi seguiremo non appena si alzerà il vento disse con calma al secondo ufficiale buona fortuna gli risposi con un cenno della testa dopo avergli raccomandato di badare a uno o due dettagli del lavoro sulla nave che avevano bisogno di attenzione speciale solo allora ritirai la cima di ormezzo e mi spinsi a largo mentre costeggiavo la fiancata della nave mi giunsero alle orecchie parole di incoraggiamento dette in tono basso insieme a una serie di rauchi brontolii di buona fortuna signore buona fortuna signore la lampada dell'abitacolo era accesa e io voltai la copertura in maniera tale da poter guardare la bussola mentre remavo continuai a remare con forza e presto la nave si allontanò nella notte sebbene per un po' di tempo mi giungessero alle orecchie i ben noti rumori di fruscii e dello sventolare delle vele mentre la nave rollava sul mare calmo dopo poco però mi trovai a remare in una immensa distesa di acqua e in un eterno silenzio due volte durante la notte mi fermai a mangiare un boccone e a bere poi mi rimisi a remare e mi regi conto che se continuavo con quel ritmo regolare avrei potuto farlo per ore e ore senza smettere quando arrivò la mattina mi guardai intorno la Skylark era perduta all'orizzonte e l'intero mondo sembrava vuoto il che mi procurava una sensazione assai strana e al tempo stesso deprimente feci colazione presto e tornai a remare più tardi presi nota della longitudine e trovai che avevo percorso cinquanta miglia verso sud remai tutto il giorno con forza fermandomi soltanto per mangiare e bere a intervalli regolari quella notte dormi circa sei ore da mezzanotte alle sei e quando mi svegliai c'era ancora quella bonaccia che pareva non dover finire mai in questo modo andai avanti quattro giorni e quattro notti il quarto giorno remai con forza ma fermandomi ogni mezz'ora per esaminare l'orizzonte non c'era altro che la grigia distesa del mare per tutta la notte mi lasciai andare alla deriva perché ormai avevo oltrepassato la posizione data dalla ragazza e mi trovavo a sud di essa e francamente non osavo remare nell'oscurità per paura di non vedere la nave naufragata passai parte della notte facendo dei calcoli poi mi addormentai dopo una buona notte di sonno fui svegliato all'alba dal rumore dell'acqua che sbatteva contro la chiglia e mi accorsi che una lieve brezza veniva da occidente mi rallegrai moltissimo perché ora sapevo che la Skylark sarebbe stata in grado di seguirmi sempre che il vento non fosse altro che una brezza locale in ogni caso non c'era più bisogno di usare i remi perché sulla barca avevo l'albero e la vela fissai l'albero e issai la vela al quarto poi misi in posizione il timone e sedetti per riposare e pilotare mi è impossibile esprimere la gratitudine che sentivo perché avevo le mani piene di vesciche rotte da cui traspariva la carne viva mentre tutto il corpo mi doleva a causa del continuo e faticoso lavoro di remare per tutto il giorno andai verso sud guardandomi sempre intorno attentamente ma non c'era nulla da vedere e una grande costernazione cominciava a impadronirsi di me cercai di non disperare e quella notte feci dei nuovi calcoli il risultato fu che la mattina seguente dopo aver fissato la vela durante la notte avevo lasciato la barca andare alla deriva mutai la rotta di pochi gradi verso est a mezzogiorno vidi che mi trovavo a 127 miglia verso sud e 46 miglia ad est dell'ultima posizione conosciuta dell'unicorne se verso sera non avessi avvistato nulla il giorno dopo avrei fatto una bordata verso nord poche miglia est della mia rotta andai avanti sino al tramonto e allora dopo aver dato uno sguardo finale tutto intorno calai la vela per la notte e misi la barca ancorata nella cima di ormeggio attaccata ai due remi come avevo fatto la notte precedente lasciandomi traccinare alla deriva mi sentivo depresso e cominciavo a pensare alla mia posizione ero lontano 400 miglia dalla Skylark in una latitudine dove si scatenavano violente e incontrollabili tempeste completamente ignorata dalle navi cercai di dormire per combattere la depressione mi copri per bene con delle coperte perché sebbene il tempo fosse bello faceva molto freddo la notte un po' dopo mezzanotte qualcosa mi svegliò e allora mi misi a sedere nell'oscurità mi guardai attorno e ascoltai non immaginavo cosa mi avesse svegliato ma ero sicuro di aver udito qualcosa però non c'era nessun suono nella notte eccetto il vento che soffiava piano e il rumore delle onde che si infrangevano contro la barca all'improvviso mentre stavo in ascolto mi giunse dalla parte sud del mare il suono desolato e triste di una sirena da nebbia all'istante mi alzai gettando le coperte in fondo alla barca mi spinsi nella direzione della sirena e dopo una decina di minuti vidi stagliarsi contro il cielo l'alberatura di un vascello a quattro alberi calata la vela mi stavo dirigendo remando verso la nave quando il suono della sirena si ripete dalla parte di poppa voltai la barca verso poppa e notai che la nave sporgeva dall'acqua solo per tre o quattro piedi quando arrivai dalla parte di dove sembrava provenisse il suono della sirena vidi vagamente che c'era il ponte e che ero arrivato proprio di fronte alla poppa smisi di remare urlai signorina doriswold signorina doriswold la sirena suonò di nuovo ma brevemente e subito dopo la voce di una ragazza chiamò con voce strana spaventata ansante chi è chi è tutto bene gridai a mia volta abbiamo ricevuto il vostro messaggio io sono un ufficiale della skylark la nave che ha raccolto il vostro messaggio vengo su a bordo la sua risposta mi riempì di stupore non venite sulla nave mi disse la voce con un tono acuto e pieno di ansia state lontano e portate la barca lontano ci sono migliaia di ratti smisce di parlare e nell'oscurità udì uno sparo di pistola sentito questo ancorai la barca in fretta e preso il fucile saltai a bordo in quell'istante la voce della ragazza mi parlò ancora io sto bene non venite a bordo per nessuna ragione ci sono i ratti aspettate la luce del giorno anche prima che parlasse mi resi conto di un suono che proveniva da tutta la poppa e che somigliava al rumore di parecchie sega in azione feci pochi passi a tentoni e cominciai a sentire un curioso fievole odore dappertutto intorno a me mi fermai e mi guardai intorno nell'oscurità dove siete? gridai e riuscii appena a vedere la sagoma scura del casotto delle mappe dove inciampai stupidamente sull'anello del catenaccio dove siete? urlai di nuovo sono salito a bordo andate via tornate indietro tornate indietro urlò la ragazza con una voce acuta piena di paura e orrore ritornate nella barca immediatamente ve lo spiegherò dopo ma tornate indietro tornate indietro in quello stesso istante sentii dei movimenti sul ponte e poi all'improvviso tutta l'aria si riempì di uno strano suono pieno di gemiti che ad un tratto si mutò in un orribile acuto pigolante leggermente stridio udì un rumore compatto come se migliaia di corpi avanzassero in fretta verso di me correndo nell'oscurità la voce della ragazza risuonò ancora una volta gridando non so che cosa con voce spaventata ma io non riuscii ad udire ciò che disse perché qualcosa mi tirava i pantaloni e all'improvviso centinaia di animali mi si gettarono addosso mordendo e strappandomi i vestiti il fucile non serviva e capì immediatamente che se volevo salvare la vita dovevo gettarmi in acqua corsi come un pazzo verso il fianco della nave i ratti mi giravano attorno a frotte con una mano staccavo i loro corpi per tenerli lontano dalla mia faccia ma gli odiosi animali erano saliti sul mio corpo a centinaia e mi pesavano addosso raggiunsi la linghiara e mi gettai nell'acqua gelida rimasi intenzionalmente sott'acqua il più a lungo possibile e i ratti mi lasciarono così potei affiorare per respirare mi mise a nuotare forte finché la testa sembrò scoppiarmi allora riaffiorai completamente e vidi che i ratti mi avevano lasciato per fortuna mi accorsi di avere ancora il fucile a raccolla e stetti bene attento a non perderlo andai avanti nuotando finché non mi trovai davanti alla mia barca sentì la ragazza gridare qualcosa ma l'acqua che mi era entrata nelle orecchie non mi permise di capire le sue parole alla fine capii che chiedeva siete salvo siete salvo dove siete sono al sicuro grazie le gridai sono nella barca aspetterò fino a domani se voi siete sicura di star bene mi assicurò che ora che ero arrivato io stava bene e che poteva sicuramente aspettare il mattino frattanto mi ero spogliato e cambiato gli abiti bagnati visto che aveva avuto l'accortezza di portarmi dei cambi di vestiti e in quel momento ne provai un immenso piacere mentre mi cambiavo parlavo con la ragazza le chiesi come stava a viveri e lei mi rispose che non aveva mangiato nulla da tre giorni e tre notti ma che aveva ancora dell'acqua io però non dovevo raggiungerla prima dell'indomani in pieno giorno e allora mi avrebbe mostrato le condizioni di tutto ma questo non mi procurò alcuna soddisfazione e quando mi fui rivestito con panni asciutti mi venne un'idea con un fiammifero accesi la lampada e così anche la lanterna che era sulla punta dell'uncino della barca e che alzai fino alla poppa della nave dove la misi sul ponte adesso potevo vedere bene il casotto delle mappe e attraverso uno degli oblò riuscii a vedere il volto pallido ma pello di una ragazza era la signorina d'oliswold e io le feci un cenno di saluto con l'uncino della barca socchiuse appena l'oblò e mi chiese che cosa volevo fare le disposi che lo avrebbe visto molto presto poi mi se l'uncino dentro il manico della lampada e corsi verso l'altra parte della barca dove potei metterla a bordo sul ponte di poppa un po' più lontano dalla lanterna allora presi le assi in fondo alla scialuppa e le disposi attraverso tutta la sua lunghezza poi preso il fucile che avevo ben asciugato e oliato e le cartucce salii su quel ponte di fortuna che avevo fatto e guardai dentro la nave la vista che si offria ai miei occhi fu veramente orribile perché alla luce delle lampade vidi che i ponti erano letteralmente neri di ratti che scorazzavano di qua e di là i loro occhi luccicavano e alla luce delle lampade sembrava che una miriade di stelle si muovesse da tutte le parti anche alla base del casotto ce ne erano tanti e avevano già cominciato a rosicchiare il legno ma poichè sotto il legno c'era dell'acciaio erano potuti entrare in pochi e soltanto dalla porta come seppi dopo guardai verso l'oblò ma la signorina d'oriswold non era là mentre guardavo vidi la fiammella di un fiammifero e lo sparo di una pistola subito dopo la ragazza ritornò all'oblò e gettò fuori un grosso ratto che in un minuto fu divorato dai suoi colleghi allora alzai il fucile più in alto del livello del ponte di poppa e sparai dalle due canne contro quella massa di piccoli mostri ne caddero parecchi morti e tanti altri feriti si misero a correre squittendo ma in un istante furono ricoperti dalla massa di ratti vivi e furono fatti a pezzi e mangiati ricaricai il fucile e cominciai a sparare senza sosta contro quella massa di piccoli bruti ad ogni sparo i morti e i morenti erano assaliti dai vivi che li divoravano in un battibaleno dopo dieci minuti ne avevo ucciso delle centinaia e dopo mezz'ora dovevo averne distrutto delle migliaia contando così alla meglio il fucile era quasi rosso per il calore fra le mie mani gli animali morti giacevano ora sui ponti ed erano la maggior parte mentre quei pochi che erano rimasti vivi andavano a nascondersi velocemente salutai la signorina d'Holliswold e cominciammo a parlare mentre il fucile si raffreddava mi disse che aveva combattuto quelle bestiacce per quattro giorni ma poiché aveva finito le candele era rimasta forzatamente al buio ogni tanto accendeva un fiammifero di cui aveva ancora parecchie scatole quando i rumori provenienti dalla porta le facevano capire che un ratto l'aveva rosicchiata in modo da entrare dentro allora sparava quel rivolger del capitano riempiva il buco con del carbone e sedeva a calma al buio aspettando che un altro entrasse qualche volta i ratti entravano da altre parti sopra la rivestitura d'acciaio e così era stata morsa molte volte ma era sempre riuscita ad uccidere i ratti e a chiudere i buchi quando il fucile si raffreddò cominciai a sparare a ogni ratto che riuscivo a vedere mentre fuggiva così che presto avevo ucciso o fatto andar via almeno nelle parti visibili tutti quei piccoli mostri allora saltai a bordo e camminai verso il casotto tenendo in mano la lanterna e il fucile fui sorpreso di vedere ancora parecchi ratti nascosti nell'ombra allora feci piazza pulita quel fucile e dopo non ne vidi più nessuno sono andati urlai alla signorina d'Holliswold e nello stesso momento udì che apriva la serratura della porta del casotto e usciva sul ponte aveva un aspetto terribilmente sparuto e sembrava che non riuscisse a camminare ma anche in quelle condizioni potevo vedere che era molto graziosa oh esclamò e vacillando si appoggiò all'angolo del casotto tentò di dire ancora qualcosa ma io pensai che stesse per cadere e prendendole il braccio cercai di ricondurla dentro no mi svegliò lei non di dentro allora l'aiutai a sedere vicino al lucernario e corsi nella barca a prendere il brandy dell'acqua e del cibo a poco a poco vidi che la vita ricominciava a tornare in lei mi disse poi che non aveva dormito per quattro notti subito cercò di ringraziarmi ma rimase senza parole solo gli occhi dissero tutto al resto dopo la portai nella barca e non appena la vidi al sicuro e comoda la lasciai lì a riposare e io camminai su giù per la poppa della nave abbandonata per tutta la notte la ragazza sentendosi al sicuro rifocillata dormì tutta la notte e buona parte del giorno quando si svegliò l'aiutai a salire di nuovo a bordo e lei insistè per preparare la colazione c'era un fornello nel casotto con del carbone io ruppi una delle gabbie per polli per accendere il fuoco e poco dopo potemmo bere del caffè ben caldo e mangiare gallette e carne in scatola quindi ci recammo sul ponte a camminare e a parlare così venne a sapere la mia parte nella storia e mi fece moltissime domande finalmente tenendomi le mani mi disse possa Dio benedirvi io le presi le mani e la guardai con timidezza e felicità lei allora ritirò le sue e continuammo a camminare poi le disse di tornare a riposare e sebbene dapprima non ne volesse sapere di star ferma a sedere perché si sentiva troppo felice dopo fu contenta di starsene un po' riposare in silenzio aspettammo lo Skylark per quattro giorni e quattro notti passavamo le giornate insieme e durante la notte la ragazza dormiva nel casotto e io nel piccolo passaggio a pochi centimetri dal rollio e gorgoglio dell'acqua che aveva inondato le cabine del vascello mezzo affondato ogni tanto mi alzavo per vedere se la lampada fosse sempre accesa sulle impalcature così che lo Skylark non ci dovesse sorpassare nell'oscurità la mattina del quarto giorno dopo che avevamo fatto colazione insieme e ci sentivamo felici andammo a poppa per fare la solita camminata il vento soffiava lievemente ma c'erano delle nubi scure verso il nord che mi resono molto ansioso all'improvviso la signorina Doliswald emise un piccolo grido perché aveva avvistato una nave e nello stesso momento la vide anch'io ci voltammo e ci guardammo negli occhi eppure non era ancora tutta la felicità che sentivamo era una mezza domanda negli occhi della ragazza e all'improvviso le aprì le braccia due ore dopo eravamo in salvo a bordo della skylark sotto la vela maestra inferiore con il vento che soffiava giù dal nord e il rumore di un tuono che si avvicinava mentre nella marea sottovento la triste nave abbandonata spariva in mezzo a enormi nuvole di spuma in mezzo